Sesto Festival delle Diversità, concerti, spettacoli, animazioni, workshop e laboratori e tavole rotonde. Anche quest'anno, quattro intere giornate dedicate al dialogo tra le culture. Più di 200 artisti che si esibiranno e più di 60 le associazioni coinvolte. Un evento organizzato dal Centro delle Culture, il Movimento Umanista, il Centro Umanista Bohemius e la Onlusi Cammini Aperti Trieste. Dal 12 al 15 giugno, al parco dell'ex OPP di San Giovanni, Trieste.